Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia. Oggi andiamo a vedere una JKU che ha una storia un po' particolare, devo dire anche un pochino sfortunata, poverina. Ci è stata portata un po' di tempo fa con il motore sostanzialmente da rifare, cosa che abbiamo fatto e praticamente il giorno dopo che l'abbiamo consegnata al cliente, il cliente ha fatto un incidente, è tosto, va piegato completamente i paraurti, ma soprattutto va spezzato la sala anteriore. Adesso ovviamente come vedete non è ancora finita, la parte carrozzeria va ancora fatta, quello che abbiamo fatto è sostituire completamente la sala anteriore, tra l'altro è un Dana 44 rinforzato con blocco RB, che tra l'altro era lo stesso che aveva, il cliente ha deciso di rimettere lo stesso ponte, ma è un ottimo ponte, come vedete c'è anche una terra anteria di sterzo rinforzata che con l'occasione abbiamo installato e per il resto abbiamo ripristinato sostanzialmente quello che si era danneggiato, però è stato un intervento molto importante che deve ancora concludersi e siamo tutto sommato soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto finora e mano a mano la stiamo per finire. Anche questa è una preparazione omologata, non è stata realizzata da noi, noi l'abbiamo implementata con alcune cose, ma rispiega un po' il tipo di preparazione che facciamo noi, quindi pneumatici a 35, rialzo, parauti e vidiuti e ovviamente preparazioni omologate. Quindi qualora fossi interessato a un intervento simile per la tua Wrangler JK o JIL, io sono a tua disposizione anche solo per darti dei consigli, il sistema più semplice è contattarmi via WhatsApp, il mio recapito è 338-73-12725, alla prossima!